Il Viglione della Glumpa è un appuntamento nel Carnevale ormai fisso, tantissimi lo aspettano e si danno da fare per arrivare, come dire, belli cariche in questo momento. Ma sì, già perché sono state vissute due bellissime domeniche di Carnevale e quindi siamo nel pieno delle manifestazioni carnevalesche, poi è un appuntamento sicuramente molto popolare dove tutte le associazioni della città, diversi gruppi, anche di ballo, vogliono in un qualche modo partecipare e vivere questo momento, proprio per la sua caratteristica, quello di essere un Viglione tradizionale che ormai da tempo che viene fatto e quindi è molto conosciuto, per la caratteristica di essere molto popolare, Cioè qua sabato sera, oltre ad avere gli amici della Staccia, che è un gruppo folk molto tradizionale delle nostre zone, che farà divertire tutti, avremo la gara delle mascherate, quindi avremo tante sfilate dei vari gruppi mascherati, con tante premiazioni, quindi ci sarà veramente tanto da divertirci e in questo noi per lo che ci siamo sempre messi in gioco per dare anche noi qualcosa al Carnevale di Fano, questo evento della città veramente molto importante e molto sentito e di questo dobbiamo ringraziare anche tutti gli attori che ci danno una mano, come la combattente che sta allestendo una sala veramente in modo stupendo e per una serata che si pronuncia veramente molto bella.